Micole Caccialupi, terza classificata di questa puntata, complimenti! Grazie, grazie mille! Allora, hai portato delle versioni di due brani famosissimi, speciali le ho definite io queste versioni, perché raccontate queste canzoni in un modo nuovo. Sì, spero appunto che il nuovo non sempre per forza deve essere penalizzato. Ho provato a portare una nuova versione della canzone, la mia versione. È vero, perché l'importante è poi sul palcoscenico essere se stessi e portare qualcosa di nuovo, no? Di non già visto. Sì, ci si prova! E tu l'hai fatto secondo me benissimo, come è stata in generale l'esperienza e l'avventura bulla e pupe? Allora, prima di venire qua ero terrorizzata perché avevo la febbre e sono afona da questa mattina, e quindi veramente ero in panico. Poi sono arrivata qui, ho fatto la prima canzone e mi sono un po', un po' sbloccata. Mi sei sbloccato e tra l'altro io le ho dato 10 più per la capacità di rispondere in maniera molto acuta alle domande che le facevo. È stata veramente brava. Grazie Michele, a presto. Grazie a voi.